Vole, 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 Vole! Un Presidente! Abbiamo un Presidente! Un Presidente! Abbiamo un Presidente! Abbiamo un Presidente! Ciao! È stata una grande sofferta, è vero? Ci hai creduto fino alla fine? A questo punto è normale, la fine degli ultimi due minuti sono stati difficili. Ti veniva un po' di scoraggiamento, però va bene così, è stata una andata difficile. Hai fatto un ottimo campionato comunque, complimenti. Grazie, grazie. Senti, mi puoi raccontare solo il Gullo? Il Gullo, me lo puoi raccontare? Raccontami il Gullo, dai! Una palla fuori ha smircolato e ha medellito le Marrocco non ce li ho. Raccontami solo il Gullo. L'ho ripreso dalla curva sub, quindi è bellissimo. C'è una palla fuori, ho girato il Gullo. C'è una palla fuori, ho girato il Gullo. C'è una palla fuori, ho girato il Gullo. Il Gullo non ha preso il Gullo. Il Gullo non ha preso il Gullo. Il Gullo non ha preso le sofferenze. Dopo tutte queste critiche. Diciamo giusto, però alla fine abbiamo fatto vedere che ci abbiamo le palle. Perché è una squadra che palla, vinci a posto, se no non vince. Sei grande, è grande, è ben colore. Presidente, a chi ti è dedicata questa leccola? A noi. Grazie. 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 Grazie.